Salve amici del Centrometro Italiano, peggioramento del tempo in arrivo con piogge temporali anche intensi. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 5 gennaio. Cieli nuvolosi al mattino su tutta la penisola con piogge sparse al nord ovest, Toscana e Sardegna. Al pomeriggio peggiora al nord con fenomeni anche intensi a carattere di temporale tra Liguria e Toscana e neve fino ai 700 mille metri sulle Alpi. In serata è notata ancora fenomeni su regioni settentrionali, settori centrali tirrenici e Sardegna e più intensi sul Triveneto. Variabilità asciutta al sud. Temperature minime in aumento al nord e lieve calo al sud, massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.